Grazie Presidente, Signor Ministro. Portiamo la sua attenzione a quelli dei colleghi di quest'Aula. Un problema che si sta riproponendo, dopo neanche poco più di cinque mesi dall'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento, di una mozione dove chiedevamo al Governo di difendere il settore agroalimentare italiano nelle opportune sedi internazionali, in particolare nell'ambito dell'ONU e delle sue principali agenzie. Grazie al suo intervento e a quello delle nostre diplomazie, l'ONU è tornata sui suoi passi e ha dovuto ammettere che i nostri prodotti agroalimentari e le nostre eccellenze del Made in Italy non sono così dannose alla salute, come dicevano. Oggi ci troviamo a dover discutere nuovamente di questo tema. Il 19 gennaio scorso è stata presentata ad Oslo la Commissione Heat Lancet su Alimentazione, Pianeta e Salute, che si propone di trasformare il sistema globale della nutrizione. Tale commissione dispone di risorse economiche straordinarie e collegata ad una fondazione che gestisce oltre 30 miliardi di dollari ed intende proporre stili alimentari lontani dal nostro modello della dieta mediterranea, stili basati solo su studi epidemiologici, senza avere alla base nessun fondamento clinico che ne certifichi l'efficacia e la salubrità. Questo modello risulta avere delle gravi carenze. I passaggi attraverso cui tale commissione vorrebbe realizzare i propri piani sono gravemente lesibili alla libertà di scelta del consumatore, al punto da prevedere prima una guida delle scelte attraverso incentivi, poi una guida attraverso disincentivi che vorrebbe dire tassare alcuni cibi, poi la restrinzione tramite l'esclusione di alcuni prodotti dal mercato, poi eliminare addirittura la scelta favorendo il fatto che sarebbe lo Stato indicare al consumatore quali sono i cibi salutari. Viene naturale pensare che dietro questo ennesimo attacco al made in Italy ci siano ben altri interessi e che sotto la copertura della salute umana si vuole invece colpire l'agricoltura e la filiera agroalimentare. Le chiediamo pertanto se come intenda nuovamente intervenire per tutelare ancora una volta la filiera agroalimentare italiana nei confronti di un modello contrario alle abitudini e alle tradizioni alimentari. Sarebbe opportuno farlo anche attraverso campagne di informazione mirate che consentano ai cittadini consumatori di valutare in modo obiettivo l'iniziativa di questa Commissione, la cui propaganda purtroppo ha già attecchito presso diversi media all'estero e anche qualcuno in Italia, al fine di evitare che i consumatori possano mettere in atto comportamenti alimentari nocivi per la loro salute. Il Ministro ha sempre lavorato rispondendo nell'ottica della mozione che era stata votata all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento. Proprio per questo motivo di recente, al fine di rappresentare la posizione italiana nell'ultima sessione del Comitato Etichettatura Alimentare, organismo della FAO che si è tenuta a Ottawa dal 13 al 17 maggio scorso, insieme con il Maeci, la Salute e il Mise abbiamo elaborato una posizione che ha modificato la posizione originaria che la Commissione avrebbe presentato a nome di tutti gli Stati membri, ancora una volta contro l'agroalimentare italiano. L'azione della Delegazione italiana è stata finalizzata a contrastare l'eventuale approvazione di nuove linee guida sull'etichettatura nutrizionale fronte-pacco, che legittimano sistemi di etichettatura basati sulla classificazione cibi sani, cibi non sani, sistemi di etichettatura FOP a colori, il famoso semaforo, sistemi che attribuiscono un giudizio sintetico sulle qualità complessive dell'alimento, il Nutri-Score, e sistemi basati su indicatori di nocività. Per quanto riguarda, nello specifico, l'iniziativa EAT, una start-up no profit dedicata alla trasformazione del sistema alimentare mondiale, quest'ultimo ormai nota per il rapporto della Commissione EAT-Lancet, diete salutare da sistema alimentare sostenibile, in cui viene affermata la necessità di modificare le abitudini alimentari mondiali verso regimi alimentari più dietetici, da un punto di vista non solo della salute pubblica, ma anche e soprattutto di lotta al cambiamento climatico. Questo modello pone attenzione su un incremento a livello mondiale della produzione e del consumo dei cibi ritenuti salubri, frutta, verdura, cereali integrali, regumi e frutta secca, e una drastica riduzione o totale eliminazione del consumo dei cibi ritenuti dannosi, in particolare carne rossa, ma anche carne bianca, latticini, zuccheri e cereali raffinati. Sono previste diverse gradazioni di intervento pubblico per cambiare il sistema alimentare globale, comprensive di misure più morbide e misure più drastiche, quali l'adozione di incentivi per alcune categorie di prodotti alimentari identificati come sani e di disincentivi per altre categorie merceologiche, fino alla totale eliminazione della libertà di scelta da parte del consumatore. Il rapporto della Commissione afferma che l'industria alimentare dovrebbe addirittura ritirare dal commercio i prodotti inappropriati e diversificare il proprio business. Il rapporto ha suscitato forte preoccupazione, non solo da parte del Governo italiano, ma anche a livello imprenditoriale, presso le organizzazioni agricole di categoria e di produttori agroalimentari. Le principali perplessità si incentrano sulla non adeguata fondatezza scientifica del rapporto e soprattutto un carattere prescrittivo delle sue conclusioni e raccomandazioni. Infatti, in linea con i più consolidati orientamenti scientifici, il Ministero della Salute e il MIPAFT hanno sempre ritenuto invece fondamentale la totalità della dieta e non solo il singolo alimento, evitando di classificare gli alimenti in buoni e cattivi, poiché tali alimenti devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata. L'Italia ha promosso, promuove e sempre promuoverà la dieta mediterranea, riconosciuta il 16 novembre del 2010 patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, costituito principalmente da olio d'oliva, cereali, frutta fresca o secca e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne per i suoi positivi effetti sulla salute e incoraggia i produttori a mantenere la qualità eccellente dei prodotti tradizionali italiani. La posizione concettuale espressa dal rapporto della Commissione It-Lancet potrebbe produrre effetti discriminatori soprattutto nei confronti di quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale, le DOP e le IGP, che sono obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dai consumatori. Nel settembre 2019, a Parigi, è prevista un'ulteriore iniziativa dei promotori della campagna It-Lancet nell'ambito di un think tank in cui sono stati invitati diversi rappresentanti della Commissione europea. Non si mancherà in tal sede di intervenire per controbattere rispetto a questi tentativi di influire sui governi e sulle competenti autorità regolatorie in varie parti del mondo per imporre una visione non suffragata da convincenti evidenze scientifiche e senz'altro controproducente per il mondo agricolo e i produttori di alimenti sani e di qualità come quelli italiani. Quanto sopra non esaurisce l'azione di tutela delle eccellenze agroalimentari nazionali perché intendiamo mantenere alta l'attenzione in tutti i fori internazionali, fa o compresa, in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, con l'intento di imprimere incesività e determinazione al ruolo dell'Italia salvaguardando il Made in Italy. Grazie. Abbiamo elaborato una nuova posizione per contrastare le linee guida che non garantiscono la tutela dei cibi italiani e la salute dei cittadini. Senatore Bergesio per due minuti. Grazie, Ministro. Noi crediamo che con tutti i problemi che l'agricoltura italiana ha oggi, ritrovarsi ancora una volta a dover discutere di questo argomento, a dover difendere ancora una volta il nostro Made in Italy, sinceramente è svilente, non solo per quest'Aula, non solo per i consumatori, ma soprattutto per i nostri agricoltori, per i nostri produttori, che si trovano già a combattere contro i continui cambiamenti climatici e contro la concorrenza aseale in primis dei paesi europei e poi dei paesi estraeuropei. Colgo l'occasione qui anche per ricordare, e la ringraziamo, perché le risorse messe a disposizione dell'agricoltura e del comparto agroalimentare da questo Governo negli ultimi sei mesi ammontano ad oltre un miliardo di euro. Questo al fine di favorire le produzioni italiane che sono di assoluta qualità. E' notizia recente che oltre 55 mila aziende agricole guidate da under 35 in Italia rappresenta così il vertice a livello europeo con questi numeri. Il ritorno alla terra è indubbiamente favorito da tutto questo. I problemi naturalmente non mancano, ma l'attenzione che lei porrà a questo argomento è fondamentale per le nostre produzioni, per la redditività dei nostri agricoltori e soprattutto per il consumatore finale. Prima i prodotti italiani sempre, grazie signor Ministro.